I sogni sono desideri Se i sogni sono desideri, proviamo ad entrare Allora, il problema è che i miei fratelli vogliono più spazi ma abbiamo delle camerette veramente piccoline Quindi come possiamo fare? Guardi, lei è entrata nel negozio giusto Possiamo proporne, se lei ha due fratelli, un bel letto a Castello Stompassa Un associato a armadi, librerie, quello che lei desidera, mi dice per me Mi ha convinto, ci vediamo dopo la consegna Buongiorno Buongiorno, bentornata Sono tornata per dirmi che aveva proprio ragione Vedi signorina, da noi i sogni non sono solo desideri ma si avverano Grazie a tutti